Sì, io sono di Milano, e io sono di Milano, le vista, salviniano e quella roba della signorina. Lei non fate questo, perché se ero per me salviniano e sparavo la sua banca, la facciamo con me. Io non ho fatto la banca, non è il mio colore, per me non è il mio colore, ma se ero io al governo, non ho scoperto, io ho tre appartamenti in centro, minaccio, minaccio, mi aggiorno. E chi vuole diventare scemo come te, Fra? Con signoria e vai a dire i negri devono morire bruciati vivi, hai detto i negri devono morire bruciati vivi? Certo, lo ripeto anche, perché io posso... È signoria questo? È signoria e i negri devono bruciati vivi? No, è signoria, io esprimo la mia opinione. Quindi cosa facciamo? La mia opinione è questa? L'Italia è questa, è un paese libero. L'Italia è questa? L'Italia è in solidarietà, l'Italia è in solidarietà, capito? Infatti non rappresenta il PD? Ecco, non ce l'ha fatto un cazzo. Tu sei uno che vota il PD. Io non guardo. Tu rappresenti... A te non se ne deve pregare quello che vota. Ma hai rotto il cazzo. Tu voti o il PD o la democrazia. Ma mi hai rotto il cazzo, sei l'inferiore. Lo stesso più rito al mondo, il senato del Vaticano, poi si comprano le bambine, ma il Vaticano va bene. Prego, vabbè. Ora, tutta la roba che c'era in cazzone, se li mantieni tu, non con le mie tasse, con i miei studio di lavoro. Ah, ho capito. Tre, tre, quarta, venti, c'è da mia arma. Accidentiamo. Grande Bomber! Prego, prego, prego. Prego, prego, prego. Quando vuoi studiare, dicelo che ti formiamo, caro. Eh? Prego, 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 prego. Bravo, bravo.